No, infatti cerco di essere concisa, così abbiamo tempo per qualche domanda. Allora, io invece vi parlo un po' del tema dei volontari, insomma, nel senso che l'incontro di oggi era anche non soltanto per dare un po' un quadro di quella che è l'associazione di quello che fa, ma anche per dire, ok, va bene, ma io come posso partecipare? Allora, il volontariato sicuramente è il cuore di AISP, nel senso che se non ci fosse non ci sarebbe AISP e tra i nostri valori l'impegno e la partecipazione sono due valori fondamentali, ma per arrivare lì ci sono anche degli step da fare prima, nel senso che, cioè io penso anche su me stessa, no? Io ho scoperto la Poland a 36 anni, ma prima di attivarmi veramente ho innanzitutto avuto il contatto con AISP che mi ha dato, ha fornito tante informazioni, mi ha fornito il contatto con, nel mio caso, la Mangiagalli di Milano e quindi ho avuto le risposte che probabilmente aspettavo da una vita. Ho elaborato in qualche modo, diciamo, tutto questo aspetto della mia vita, dopodiché, non subito, non subito, dopo tre o quattro anni mi sono sentita pronta nel dare la mia, come dire, il mio contributo. In questo momento, diciamo, come dare il proprio contributo e che tipo di contributo dare? Questo dipende molto poi dalle caratteristiche di ciascuno, nel senso che, a parte le competenze, dipende anche molto da come si è fatti, insomma, dal proprio anche carattere, dalle proprie attitudini. Di solito i volontari si incontrano, appunto, come già abbiamo detto, tre volte all'anno, giusto, più o meno, ed è un momento appunto in cui in qualche modo si programma, si dà una, diciamo, una concretezza ai progetti e quindi essere volontari vuol dire anche essere pronti a offrire, no, una parte del proprio tempo e offrire la propria esperienza agli altri. Come partecipare in questo momento in cui comunque siamo a distanza, in cui non possiamo vederci di persona e diventa un pochino più complicato? Diciamo che ci sono certe forme di partecipazione che purtroppo adesso non possiamo mettere in atto, tipo le raccolte fondi, magari le organizzazioni di cene, piuttosto che... Raccolta di uova, ecco, l'uova di Pasqua. L'uova solidale per Pasqua, però sicuramente c'è tutta una parte legata ai fondi di cui parlava Massimo e quindi una parte di donazioni che è sicuramente possibile, quindi 5 per 1000, donazioni varie. Poi per Natale volevamo rilanciare il libro di Non sono solo, scritto dalla nonna Aisp e quindi questa è una parte di collaborazione che ci può essere. Dopodiché ciascuno di voi può dire, in base appunto anche alle proprie competenze, dirci, ma guarda io insomma un po' di comunicazione me ne intendo, vi posso dare una mano. Ecco, diteci anche nel senso, siamo anche qui per sentire se eventualmente qualcuno vuole in qualche modo proporsi, no? L'altro modo per in qualche modo stare dietro l'associazione in questo momento e conoscerla un po' meglio è sicuramente quello di seguire il nostro sito e i nostri canali di comunicazione. Adesso magari condivido un attimo lo schermo così facciamo una rassegna un po' veloce. Allora il sito, appunto è un sito molto molto recente, cosa è successo qui? Dove appunto potete trovare, insomma avete tante informazioni, tante sezioni e la cosa interessante è che ci sono anche dei percorsi a seconda di chi siete, quindi anche per i vostri bambini ad esempio c'è appunto il video della storia del fiorellino AISP, giusto per farvi un esempio. Poi c'è appunto il percorso dei ragazzi, genitori e adulti, quelli che appunto come me hanno scoperto da adulti la sindrome di Poland. Ci sono tutte le varie notizie, ok? L'altra cosa importante del sito è che sulla home page del sito potete iscrivervi alla nostra newsletter, che è più o meno a scadenza quindicinale ed è un modo abbastanza economico a livello di tempo per essere aggiornati con tutte le nostre iniziative e progetti, perché vi arriva questa mail in cui c'è proprio un po' una sintesi di quelle che sono anche le comunicazioni che invece diamo con maggiore frequenza sui canali social. E poi c'è la parte che è sempre molto amata delle storie della nostra comunità. E niente, quindi insomma è un po' da scoprire. Infatti un piccolo inizio da parte vostra, se ve la sentite, proprio molti di voi hanno cominciato con la storia, se vi fa piacere condividerla, è un modo per cominciare a donarsi un pochino. Buona idea. Poi invece sui social siamo, scusate che poi si aprono cose, su Facebook con la pagina scusate, con la nostra pagina dove trovate informazioni sull'associazione, quindi sulle attività, iniziative come questo ciclo di webinar ad esempio, le storie perché periodicamente pubblichiamo le nostre storie, poi condividiamo anche gli eventi e le iniziative che riguardano le associazioni le istituzioni con cui appunto collaboriamo. E poi su Facebook c'è anche invece il gruppo privato dei portatori e familiari dove vengono comunque ricondivise i post che di solito pubblichiamo sulla pagina principale. Però è anche un luogo un pochino più, come dire, protetto in cui eventualmente scambiarsi anche qualche pensiero un po' più personale, diciamo. Poi ultimamente ci siamo un pochino più lanciati con Instagram perché ci siamo resi conto che insomma ormai ci sono diverse persone che ci arrivano attraverso questo canale. Ovviamente è più fatto di immagini quindi è meno comodo rispetto a un Facebook, però comunque anche qui scorrendo un po' la nostra gallery avete un po' l'idea di quello che si sta facendo. Poi siamo anche su LinkedIn quindi anche qui potete curiosare e infine ultima cosa abbiamo anche un canale Telegram. Se volete essere iscritti ce lo potete dire così vi inseriamo. E niente quindi ecco questa era un po' la carrellata dei nostri canali di comunicazione.